Up to the date, eccoci qua, aggiorniamo la nostra gentile... Allora, vediamo la prova della denuncia che abbiamo fatto. Che se è fatto. Ecco fatto. Qui ci sono le firme, ci sta tutto. Allora, diciamo che razza di denuncia abbiamo fatto e in che cazzo di mondo ci troviamo a vivere. Allora, l'altro ieri, anzi no, ieri mattina, facendo una rapida escursione su Facebook, che insomma non è che mi ci dedico oramai più tanto perché sono preso da altri problemi, ho incocciato questo documento che pensavo che fosse un hoc, una bufala. Sì. E invece, ovviamente, si è rivelato del tutto vero... E' una documentazione di una circolare che ha mandato il prefetto di Nuoro a tutti i sindici di quella prefettura. Esatto, però a noi c'è giunta tramite il sindaco del comune di Gairo, Ogliastra... Perfetto. Che è evidentemente una grande persona che ha a cuore l'interesse dei suoi concittadini... Dei cittadini e dell'onore, del suo personale onore. E che cosa dice questo? Allora, ve la leggo perché è emblematica. Si fa seguito alla nota, eccetera, eccetera, concernente l'oggetto... No, ma ha detto per inciso che il prefetto non fa altro che applicare le norme di legge. Certo, quindi... È un personaggio molto atipico di funzionario dello Stato, che è eletto di nomina politica, ma è un funzionario dello Stato. È un funzionario dello Stato a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Di individuare strutture di accoglienza, preferibilmente non alberghiere, con riferimento al nuovo ingente flusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale. E qui già c'è un allarme, vuol dire che siamo assaliti dalle orde barbariche. Noi che, oltretutto, hanno tolto il reato di introduzione clandestina nel nostro paese. E certamente. Cioè, chiunque può entrare, rubare, derubare, portare via, eccetera, meno che noi, perché noi dobbiamo essere disarmati, bloccati, carcerati, incatenati, mentre loro fanno i cazzi, le cose di loro. Schiavizzati, soprattutto. Schiavizzati, appunto. Allora, al riguardo, si precisa che con le medesime strutture verrà stipulata una convenzione che prevede l'affidamento del servizio per un importo massimo di 30 euro oltre IVA e che comprende, oltre Vitto, rispettoso dei principi e abitudini alimentari e alloggio. Sì, ma è bello che arriva a quello che abitavano. A mangiare i serpenti? No, no, sì, che mangiava i serpenti e noi dice, no, allora lui si incassa perché ne abbiamo visti più davanti. Io voglio mangiare i serpenti, no le lucertole. Questa è la formula dell'integrazione che intendono loro. Sì, ti diamo due chili di pasta al giorno, no, ti diamo 50 tonnellate di carne, no, voglio il serpente, capito? La lucertola del deserto. Andiamo avanti, e quindi che comprende, oltre al Vitto, rispettoso dei principi e abitudini alimentari e l'alloggio ovviamente, la gestione amministrativa degli ospiti, l'assistenza generica alla persona, compresa la mediazione linguistica, l'informazione, primo orientamento ad assistenza alla formazione della richiesta di protezione internazionale, il servizio di pulizia, la fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione, perché le mezze stagioni sono mezze stagioni, ci sono, e contrariamente a quello che dicono che non ci sono più le mezze stagioni, qui per il prefetto ci sono anche le mezze stagioni, prodotti per l'igiene, pocket money, una volta si diceva argent de poche per 2,5 euro al giorno, che manco io ce l'ho. Una tessera, una tessera di carica telefonica di 15 euro all'ingresso, al mese ovviamente, per le specifiche tecniche dalle servizi si rinvia a quanto previsto dal capitulato generale dell'appalto approvato dal decreto ministeriale 21 novembre 2008, revivibile sul sito del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, si rappresenta che a livello nazionale l'assistenza sanitaria degli stranieri, compresa la vaccinazione obbligatoria garantita ai sensi dell'articolo 34 e 35 del decreto legislativo 286-98. Ciò premesso perché è imminente presso la Prefettura di Cagliari un tavolo regionale di coordinamento di questo ufficio e cebra bla bla bla. Allora, no, voglio aggiungere una cosa, manca una cosa. Adesso lo leggo. No, 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 lì leggi che però manca una cosa, te lo dico prima perché io sono molto colpito da questa cosa, da questa mancanza. Manca quella che ti viene a leggere l'uccello quando vai a pisciare. Per gli handicappati che hanno avuto il taglio della mano per quanto ladri e quindi non possono più prendersi il pisello. Giustamente, giustamente, proprio loro. Allora, quindi anche quelli giustamente devono essere assistiti. Allora, questo è invece un altro documento interno, sempre del Ministero del Tesoro, che ovviamente non viene citato né nominato da nessun giornale e telegiornale. Mi immagini i giornali. Ma tutto bene, madama la Marchesa. È un documento pubblico, emesso da un'autorità pubblica. Se stanno tu suicidi per essere stati colpiti, ricattati, minacciati e torturati da Equitalia. Faccio solo un breve elenco, servizio di assistenza generica alla persona, tralascio tutte le varie cose. E quindi servizio di barberia, di lavanderia, sostegno socio-psicologico. Cazzarola! Finalmente facciamo lavorare i laureati psicologici. Sì, tutto lavoro garantito per le cooperative bianche, ovviamente. Manca solo la partecipazione del Papa, ma sta tranquillo che arriverà anche lui. No, ma c'è già andato, la patelleria ha già fatto l'escursione. Organizzazione del tempo libero, organizzazione del tempo libero, organizzazione di attività ludico-ricreative, sportive e culturali, organizzazione di tornei di calcio, di volley, pallacanestro, allestimento di biblioteche contenenti testi multietnici, perché se non sono in aramaico non li leggono. Non li leggono, in aramaico soprattutto, i vangeli, i vangeli. Organizzazione di corsi di pittura, eccetera, eccetera. Di pittura, saprai che è bello? Dipingi il tuo paesaggio, siccome era deserto, non è deserto? Tutta la tavola gialla. Ma che è questo? Adesso c'è il mio paesaggio. Aspetta, ai fini dell'aspetto del servizio è necessario garantire uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, spazi comuni di socializzazione, ludoteca, eccetera, eccetera. Ludoteca soprattutto. Ti pare che manca l'insegnamento della lingua italiana e vabbè, quello mi sembra che dovrebbe essere la prima o l'unica cosa. È l'unica maniera per far leggere in italiano qualcuno, perché qui leggono tutti in inglese o in francese. Allora, il servizio deve essere garantito per un monte ore proporzionale al numero di ospiti presenti nel centro. Tralascio tutte le altre cose. Orientamento al territorio e informazioni sulle possibilità di inserimento del sistema di protezione per richiedere asilo ai rifugiati. Tralascio altre informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, perché c'è pure chi dice che non mi trovo abbastanza bene e vado a casa mia. Si lamentano loro, in Italia non hanno mai l'assistenza adeguata. Eccata che non si lamentino mai quando vanno in Germania, in Olanda, in Francia, dove voi si alzano la bocca, si beccano una tale quantità di calci in bocca che poi staccano subito. Servizio di assistenza sanitaria. E io lo sappiamo, quando diciamo queste cose, lo sappiamo perfettamente come funziona in quei paesi. Allora, somministrazione dei farmaci prescritti dal medico avendo cura di comunicare agli operatori. Possibilmente farmaci di comparaggio, cioè dove il medico prescrive prodotti che devono far favore a una specifica industria farmaceutica. Tenere costantemente il registro di infermeria, informare il medico, prenotare centri pubblici, revisti specialistici, gli esami diagnostici, siccome a noi ci fanno aspettare un anno per avere una TAC, a loro invece i canali preferenziali. Servizio di pulizia e igiene ambientale. Pulizia dei locali e quindi confort ambientale e igienico per unità abitative, uffici e locali di servizio all'interno degli stessi immobili in grado di garantire lo svolgimento dell'attività prevista dal centro, biodegradabilità dei prodotti chimici impiegati, dosaggi e pericolosità controllate, evidenziate e enunciate. E poi attività, aspirazione, battitura, tappeti, testi, distuoie e zerbini, controllo dei chiusini, di terassi e di balcone. Questi sono abituati a dormire sui tappeti, ma sui tappeti di merda, di pelle. Deodorazione dei servizi igienici, deragnatura, detersione a fondo degli arredi, detersione dei avanzali esterni. Li vanno a levare le raglie dal buccio del ciuro, questi arrivano con... Detersione dei porti e materiali, disincrostazione dei servizi igienici, disinfezione, disinfestazione, pulizia, raccolta carta differenziata, spazzatura delle superfici interne e esterne, rifornimenti materiali di consumo, rimozione di macchie di sporco dai pavimenti, rimozione di macchie impronte da porte, rimozione di macchie impronte verticali lavabili. E poi spazzatura umido, spazzatura con raccolta grossa per spezzatura, spolveratura ad umido, discrimanie, sedie, mobili, spolveratura ad umido di arredi, spolveratura ad umido di cantato come telefono, interruttori, pulsantiere, maniglie, spolveratura ad umido di superfici orizzontali, termosifoni, davanzali, eccetera, eccetera. Poi, aspetta che troppo bello, tralascio tutte le altre cose, l'aderatizzazione. Soprattutto l'aderatizzazione, perché loro se li mangiano i topi, voglio vedere che cazzo gli fai, hai tolto gli alimenti, li hai tolto. Ma è troppo bello, questa va proprio letta. Allora, poi, prati e superficie erbose, taglio regolare del tappeto erboso ogni 8 giorni, concimazione di 3 giorni ogni 2 anni, semina di miscuglio all'anno, annaffiatura regolare dei tappeti erbosi, sfalcio dei prati naturali, trattamenti antigriptocamici, siepe e cespugli in forma libera, taglio estivo, trattamenti antigriptocamici, aspetta che troppo, mantenimento dei siepi, vangatura invernale, estirpazione di piante secche, annaffiatura regolare dei siepi, potatura autunnale degli alberi ad alto fusto, mantenimento delle polizie delle aree verdi, e poi aspetta, troppo bella ancora, ancora, allora, qui, forniture di alimenti, esattamente, allora, kit di forniture, aspetta, kit di forniture... Prima di tutto, però, grilli, i grilli ci sono, sono previsti, i grilli, no, ancora no, grilli, lucertole, cimici, cimici, cavallette, cavallette sono, base, è base primaria, e cose, soprattutto formiche, scorpioni, anche scorpioni, scorpioni fanno molto bene, allora, kit fornitore per gli ospiti, il gestore rinnoverà la fornitura dei generi consumabili con l'uso, quali sapone, shampoo, dentifrice, eccetera, tenendo conto delle ordinate modalità di consumo dei medesimi generi in condizioni normale fa bisogno, a tal fine si considera il normale fa bisogno di una dose monouso a giornaliera, il gestore avrà cura di annotare ogni fornitura, il gestore profiterà, sì, a sostituire i beni non consumabili con l'uso, quindi vestiario, effetti letterecci, da altri di cui alla tabella seguente, alla constatazione dell'inservibilità di quelli oggetto della prima data sicure, ovvero a fornirli ove non già assegnati, quindi uomo, un paio di scarpe, un paio di cebatte, due tute, in alternativa due pantaloni più giaccone, pigiama, quattro paio di slip, tre asciucamani, quattro paio di calze, due maglietti, due t-shirt, un dentifrice, uno spazzolino, un pettine, una carta igienica, due sapone liquido, due shampoo, un borsone di viaggio, due lenzuola, una federa monouso ogni tre giorni e due coperte. Poi, ad ogni ospite, in aggiunta ai beni elencati del kit di vestigio, verrà fornita una volta... Sarà fornita una sola volta all'ingresso della scheda telefonica di 15 euro, oltre che un buono economico per al valore di 5 euro ogni due giorni, spendibile all'interno del centro per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite narcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali, pasti, ma questa è carina. Allora ci arriviamo ai pasti. L'oggetto di questo servizio è la fornitura dei passi dove in favore degli stranieri irregolari, ospiti del centro... I stranieri irregolari! Ricordiamo, lo dice qui! Ma io che uno entro dentro casa mia, che lo trovo dentro casa mia, gli sfondo il culo a forza di caccia nel culo, non che gli abbassano la vicenda a cena. Come meritano tutta questa gente qui. Allora, l'oggetto di servizio è la fornitura dei passi in favore degli stranieri irregolari, ospiti del centro. Tale servizio potrà essere effettuato in proprio tramite dei gaiting o tramite dei terzi subappaltanti, mentre la distribuzione dovrà essere effettuata dal personale dell'ente gestore nei locali adibiti d'uso mensa. Il servizio dovrà essere svolto sette giorni a settimana con la somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero di presenza del centro. Ogni pasto, pranzo e cena, in alternanza dei menù previsti, sarà composto da un primo piatto. Pasta o riso, grammi 100-150 a seconda del condimento o grammi 80-100 di legumi, semola o riso. Un secondo piatto di carne rossa, grammi 150 o carne bianca, 200 o 250 si conosce. Pesce 200 grammi, 2 uova, 100 grammi di formaggio, verdura, frutto di stagione oppure frutto, banana, mela, pera, due panini, un litro di acqua minerale pro capite. La prima colazione sarà composta da belanda calda, 200 centilitri a scelta di caffè, latte, tè, fette... Adesso dobbiamo chiudere perché ci sta spiovendo sulla testa. Aspetta, fette biscottate, un panetto di burro, due confezioni di marmaliate di miele, in alternativa biscotti confezionati a monoporzione, grammi 80. Aspetta che ancora due o tre cose... Andiamoci al coperto, perché soprattutto qui, visto che parliamo di queste persone, dobbiamo riportare quello che si dice abitualmente, che dice quando piove nel deserto nel tucun si sta al coperto. Giusto. Allora, tralascio tutto il panfletto qui, che è ridondante, però solo per dire che addirittura qui ci sono servizi di infermeria, servizi di guardiania, di magazzino, di assistente sociale, mediazione linguistica, informazione normativa, insegnamento della lingua, sostegno socio-psicologico e poi ancora operatori diurni di vario genere, direttore amministrativo, assistente sociale, mediazione linguistica, eccetera, eccetera. Tralascio tutto il resto, ma che cosa noi abbiamo denunciato, insomma? Abbiamo denunciato, ecco i reati. Allora, i reati sono contro ovviamente il Presidente della Repubblica, che c'è sempre come il caso sui mancheroni, c'entra sempre, e poi il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, e poi tutti i Presidenti della Camera, i Presidenti del Senato, i Presidenti dei segretari dei partiti politici, tutto l'arco parlamentare nel suo complesso dal 21 novembre 2008 ad oggi. Per che cosa? Per riduzione in schiavitù, poi attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, infedeltà in affari di Stato, attentato contro la Costituzione del Stato, attentato contro i diritti politici dei cittadini principalmente, poi altre cose. Che cosa è successo? È successo che nel 1975 l'Italia ha sottoscritto e ratificato un trattato internazionale della Convenzione ONU. E che cosa dice? Allora, intanto preliminarmente, la Repubblica richiede all'articolo 2 l'attempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, economica. e i cittadini a cui sono affidati le funzioni pubbliche hanno il dovere di riempire con disciplina e d'onore prestando giuramento dei casi stabiliti della legge, giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e al popolo italiano, non agli irregolari. Lo Stato è ad escludendum, non ce lo scordiamo mai. Esattamente, tu hai detto la cosa più importante in assoluto, nel momento in cui tu individui una comunità nazionale o meno, devi individuarla in quanto non è quella degli altri. Esatto, esattamente. Che cosa succede? Insomma, io ho trovato questo documento che ho letto prima e che confligge proprio pesantemente in maniera contrapposta con il decreto legge del 26 aprile del 93 numero 122 che è la ratifica delle misure urgenti in un'area di discriminazione etica e religiosa, che a sua volta è il recepimento dell'articolo 3 della legge del 13 ottobre del 75 numero 654. E che cosa dice? Che è punito con la reclusione fino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, ovvero inizia a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali etnici, eccetera. E qui, quello che ho letto prima, è esattamente comprensibile e diciamo integrabile. Discriminazione nei nostri confronti. Esattamente. Perché? Perché adesso ci arriviamo. Allora qui c'è tutta una serie di argomenti che dice, fra l'altro, che 10 milioni di famiglie l'Istat li ha identificati come nella povertà più conclamata. E quindi che cosa dice questa Convenzione? L'espressione discriminazione razziale sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendente e l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo, l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento, l'esercizio in condizioni di parità dei diritti dell'uomo e della libertà fraternale. Ma a chi dobbiamo mandare questi qui, tutti quelli? Mandiamo in Israele, lì verranno accolti. Ah, molto. Sì. Fondamentalisticamente. Ma questo proprio, se ci sono delle persone che sono antirazziste, perché lo programmano tutti i giorni, per natura, queste persone, quando arrivano, noi li rifociliamo, poi li carichiamo sugli aerei o volendo anche sulle navi, sui cargo e li portiamo tutti in Israele, che li aspettano a braccia aperti. Sì, sì, infatti, per metterli nei raghi, Roberto. Allora, e quindi in condizioni di parità dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale nel campo politico, economico, sociale e culturale, in ogni altro settore della vita pubblica. Ma ancora il giustatore ha voluto evidenziare la valenza della legge anche in presenza di una giusta tutela identitaria dello Stato-Nazione, per cui giustamente ha voluto chiarire che esiste comunque distinzione fra cittadini e non cittadini. Eccolo qui, infatti, che cosa dice all'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 1 della Convenzione? La presente Convenzione non si applica alla distinzione, esclusione, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini e dei non cittadini, mi sembra normale, naturale che il cittadino sia un trattamento di favore rispetto a chi non è cittadino. Allora, attenzione, con questo la concludiamo. No, aspetta. No, perché c'è da aggiungere una cosa importante ed è questa qui. esisterebbe una condizione di parità solo qualora tutti gli elementi di favore nei confronti di questi irregolari fossero esattamente identici a quello che hanno tutti gli italiani. Eh certo. Ciascun italiano per conto suo. E lo sto dicendo. E appunto. Allora, qui che cosa dice? Allora, solo ieri, 27 gennaio, l'Ista ha tradicherato che una famiglia italiana su due giace in condizioni di conclamata povertà. Il che sta a dire che circa 10 milioni di famiglie, quindi 30 milioni di persone, sono in difficoltà economiche, quindi sociali, culturali, igieniche, eccetera. E che fanno i nostri prefetti su ordine del Ministero degli Interni, ovviamente con tutto il governo perfettamente consensiente e consapevole, invece di provvedere al sostenere 10 milioni di famiglie italiane in difficoltà, invece di concedere un reddito, seppure temporaneo, di cittadinanza, contributi per il sostegno dell'artigianato del commercio, invece di dare una qualche forma di cassa integrazione agli oltre 4 milioni di partite di IVA, che non hanno nessun tipo di ammortizzatore sociale, che fa il prefetto su ordine del Ministero degli Interni, pensa a mantenere uno solo, sempre più in male, di immigrati clandestini di cui all'origine non si sa nulla, quasi sempre neppure la vera identità, per cui arriverebbero sicuramente al punto in cui ci troveremo in casa, delinquenti incalliti, drogati, malati tubercolosi… No, ci troviamo già in questa situazione, con il consenso delle forze dell'ordine. Tubercolosi e quant'altro. E delle prefetture. Ora, con tutta la più disponibile umana pietà, per chi arriva qui sfuggendo da situazioni di difficile sopravvivenza… Per quello è l'umana pietà, dobbiamo mandarli tutti in Italia. I paesi le verranno assistiti con al massimo del confronto. Certo, Sbarare ha tenuto a stagna le porte d'ingresso, ma questo ad accogliere centinaia di migliaia di fuggiaschi in giro per il mondo ce ne corre. Non scordiamoci che le invasioni barbariche avevano connotati abbastanza simili e sovrapponibili alle attuali ondate migratorie. Ma a questi arrivavano e portavano supporto perché combattevano per i romani. Certo, perché i romani… Io non vorrei che la civiltà occidentale, santi il sismo e l'imbarbarimento del senso di appartenenza alla nazione, prima che al genere umano, in qualche decennio si conduce a essere la stessa fine dell'impero romano. Non a caso questo avviene qui ed ora, il progetto del neomondialismo, come detto più volte, è ben chiaro e mira allo smantellamento degli stati e nazioni per arrivare nel più breve periodo all'insaurazione di un potere unico mondiale che una volta sciolta… Come già dichiarato in maniera esplicita, dei vari componenti delle autorità mondialiste con l'apporto sostanziale, già ampiamente dimostrato, del papato di questa chiesa qui. Una volta sciolto questo, è distrutto il cemento etnico, culturale, sociale, linguistico e giuridico, eccetera, degli attuali stati e nazioni, sarà di facile attuazione e completamento e soprattutto non sarà più sostituibile né sovvertibile, in quanto tutto sarà diventato un'enorme e informe e va bene senza alcune identità e alcuna possibile potenziale aggregazione attorno ad un qualunque nocciolo duro da parte di qualunque opposizione. E quindi faccio l'elenco di quello che dice la legge, e quindi appunto legge articolo 5, c a non permettere né alle pubbliche autorità né alle pubbliche istituzioni nazionali o locali l'incitamento e l'incoraggiamento alla discriminazione raziale. E qui mi sembra proprio, invece, in questo caso si ricada pienamente in questa fattispecie. L'articolo 5, comma, diritto ad un uguale trattamento avanti dei tribunali di un altro organo che ha ministri la giustizia. Dieci milioni di processi in corso sono la pietra tombale della giustizia e dei giudici italiani. Vergognatevi. Perfetto. Ecco, aspetta. Poi, punto C dell'articolo 5, diritti politici e in particolare diritto di partecipazione nelle elezioni di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del soffragio universale ed uguale per tutti, il diritto di partecipare al governo e alla direzione degli affari pubblici a tutti i livelli, nonché al diritto di accedere a condizioni di parità alle cari pubbliche, il che col Porcellum prima e con l'italico muro assolutamente non sono garanti. Esattamente. Aspetta. Comma 6, il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo in quanto singolo sia in società che con altri, il che con Equitalia che ha sequestrato oltre 800 mila immobili a gennaio del 2008 ad oggi ha messo in atto l'esatto contrario. Comma 8, il diritto alla libertà di opinione e di espressione, il che ad esempio con l'emanazione della regge sull'inconfutabilità dell'olocausto non è più agibile. E quindi, poi, comma I.1, i diritti al lavoro, alla libertà di scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro equi e soddisfacenti, alla protezione della disoccupazione, ad un salario uguale, a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente, il che con la crisi industriale e economica di Anna non è più attuabile, non esiste protezione dalla disoccupazione, il salario è arrivato a livelli della Polonia, ma con un costo della vita quattro volte superiore. E poi il diritto all'alloggio, non si fanno più case popolari in quantità degne di questo nome da almeno 30 anni. Insomma, tutto quello che viene citato dalla legge come non discriminatorio in Italia viene attuato contro i propri cittadini e viceversa, gli irregolari clandestini vengono tutelati a ricordi norma internazionale. Tutto questo per dire alto tradimento, ancora una volta, del dettato costituzionale da parte delle più alte cariche dello Stato e quindi la resistenza alla lesione dei diritti costituzionali violati è un diritto dovere di non cittadino anche del giudice che ci legge ora. Esattamente. Quindi signor giudice, vedi del mover pulo. No, noi ti abbiamo incastrato, caro giudice, nel caso in cui avessimo le possibilità e tu non lo fai, sarai giustamente giudicato in funzione di questo e con questo chiudiamo, lo dico per l'ennesima volta, perché? Perché abbiamo raggiunto i limiti della sopportazione dei nostri amici, invitiamo vivamente tutti quelli che sono interessati a ripetere questa denuncia e andarla a cercare su internet. Su albamideraneo.com dove sarà nel pomeriggio inserita e quindi potete scaricarla e replicarla. La scaricano per intero e una volta scaricata la portano direttamente dal caserma dei carabinieri più vicina della loro abitazione, in tutta Italia. Bene, ciao.